vai 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 chi è caduto luca luca dacce la mano dacce la mano ci sce la c'è successo? si è caduto aaaah mi saluto fermati 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 il braccio il braccio fermatevi ragazzi fermatevi fermatevi oh ma dove sta? dove sta Luca? sta qua Luca è luca nel dirupo è luca nel dirupo è luca nel dirupo è luca nel dirupo guarda qua